Il giro turistico delle 5 terre con un cartello con partenza da allevato con cui viene servito il posto a bordo dell'andata. Durante il giro di ritorno faremo visitare le qualità turistiche di Monte Rosso, Vernazza, Bormiglia, Manarola e Rimo Maggiore. Inoltre salvaguardiamo l'ambiente utilizzando un motore alimentato a GPL che riduce al 95% le emissioni dei 2 per 2 nell'ambiente e rispetto ai motori convenzionali. Noi promuoviamo il turismo attraverso i sapori della nostra cucina e le bellezze paesaggistiche. Via! E meschiamo le 5 terre!